Sconfiggere l'Alzheimer. L'azione degli integratori naturali contro gli effetti degli zuccheri insulinici. L'Alzheimer è una malattia che incute timore, ma recenti studi hanno messo in luce come G.I.L.I. zuccheri insulinici possano influenzarne lo sviluppo. La gestione dell'insulina attraverso l'alimentazione si rivela fondamentale. La correlazione tra gli zuccheri insulinici e il declino cognitivo è allarmante. Un'eccessiva assunzione di zuccheri può aggravare il rischio di sviluppare malattie neurodegenerative, sottolineando l'importanza di monitorare la dieta. farlo ora ed attivare la campanellina per rimanere aggiornato sui prossimi video. Ma il consiglio più grande che voglio suggerirti è quello di visitare il nostro sito store, lo trovi in descrizione, dove trovi davvero ottime risorse selezionate per te in base a questo video che possono aiutarti per risolvere diverse situazioni importanti. Trovi il sito qui sotto in descrizione e questa settimana puoi accedere a sconti fino al 70%. Ora possiamo continuare con il video. Tra i vari integratori alcuni si distinguono per la loro efficacia nel contrastare gli effetti negativi degli zuccheri insulinici. Integratori a base di antiossidanti, vitamine e minerali offrono un valido supporto. Una dieta bilanciata si rivela cruciale nella prevenzione dell'Alzheimer. Alimenti ricchi di nutrienti neuroprotettivi e poveri di zuccheri raffinati possono fare la differenza nel mantenere il cervello in salute. La curcuma, con le sue proprietà antiossidanti, si rivela un alleato prezioso nella lotta contro ghili effetti dannosi degli zuccheri. Questo spezia, usata da secoli nella medicina orientale, contrasta l'infiammazione e il danno ossidativo. L'olio di pesce è noto per i suoi benefici sulla salute cerebrale. Ricco di Omega 3 aiuta a migliorare la funzione cognitiva e a ridurre i rischi legati all'accumulo di zuccheri insulinici. I frutti di bosco, carichi di antiossidanti, giocano un ruolo cruciale nella protezione contro l'Alzheimer. Questi piccoli frutti colorati possono neutralizzare i radicali liberi e promuovere la salute del cervello. Il tè verde, con il suo contenuto di catechine, offre una difesa potente contro l'impatto negativo degli zuccheri insulinici sul cervello. Bere regolarmente tè verde può contribuire a ridurre il rischio di sviluppare Alzheimer. Il magnesio svolge un ruolo essenziale nel proteggere le funzioni cognitive. Un adeguato apporto di questo minerale può aiutare a prevenire l'insorgenza di malattie neurodegenerative, inclusa l'Alzheimer, mantenendo il cervello sano. La vitamina D è essenziale per il benessere del nostro sistema nervoso. La sua assunzione attraverso integratori o esposizione al sole contribuisce alla neuroprotezione, riducendo il rischio di Alzheimer. Il coenzima Q, TEN, svolge un ruolo cruciale nel rallentare la progressione dell'Alzheimer, grazie alla sua capacità di migliorare l'efficienza energetica delle cellule cerebrali e di combattere lo stress ossidativo. Ginkgo biloba è noto per le sue proprietà di miglioramento della memoria e della concentrazione. Questo antico rimedio naturale favorisce la circolazione sanguigna nel cervello, essenziale per mantenere una mente agile. I probiotici, migliorando la salute intestinale, influenzano positivamente anche la funzione cerebrale. Un intestino sano è fondamentale per la produzione di neurotrasmettitori che supportano il benessere cognitivo e prevengono l'Alzheimer. L'acido alfa-lipoico si distingue per la sua potente azione antiossidante, proteggendo le cellule cerebrali dai danni causati dai radicali liberi e sostenendo così una difesa efficace contro l'Alzheimer. L'attività fisica gioca un ruolo cruciale nel potenziare l'efficacia degli integratori naturali nel contrasto agli effetti degli zuccheri insulinici. Esercizi regolari migliorano la circolazione sanguigna, essenziale per il trasporto di nutrienti vitali al cervello. Per integrare efficacemente gli integratori nella dieta, è fondamentale adottare una routine quotidiana bilanciata. Consumare alimenti ricchi di antiossidanti e omega-3 insieme agli integratori può massimizzare i benefici per la salute cerebrale. Recenti studi e ricerche hanno evidenziato il potenziale degli integratori naturali nella prevenzione dell'Alzheimer. Sostanze come la curcuma e il ginkgo biloba mostrano promettenti effetti neuroprotettivi che meritano ulteriori indagini. Ci sono numerose testimonianze di individui che, combinando una dieta sana, esercizio fisico e l'uso di integratori specifici, hanno notato miglioramenti significativi nella memoria e nelle funzioni cognitive, rallentando i sintomi dell'Alzheimer. Concludendo, un approccio olistico che combina una dieta equilibrata, attività fisica regolare e l'uso di integratori naturali si rivela essenziale nella prevenzione dell'Alzheimer. Prevenire è meglio che curare, soprattutto per la salute del nostro cervello. Grazie per aver guardato se pensi che questo video possa essere utile a qualcun altro. Sentiti pure libero o libera di condividerlo con le persone che ami. Se ancora non l'hai fatto, ti invito a iscriverti al canale e ad attivare la campanellina in modo da ricevere una notifica per i prossimi video in programmazione. A presto!